Il fuorisalone celebra il fai da te, in mostra tante idee per realizzare oggetti di design a casa, servendosi della propria creatività. Non vedo il risultato, perché hanno fatto prima, hanno fatto una selezione. Non vedo nessuna ricche in termini di agreement. Non vedo il risultato di regla. Abbiamo un numero in questo? Se volete avanti, lo vorrei? Grazie.